L'antenato del barbone è un infaticabile cane da caccia in acqua, il barbet. Nonostante il barbone sia stato selezionato come cane da compagnia l'amore per l'acqua e l'instancabile energia sono rimaste innate nel suo DNA. Appartiene al gruppo 9. FCI 172. Esistono quattro varietà. Il grande dai 45 ai 60 centimetri. Il medio dai 35 ai 45 centimetri. Il nano dai 28 ai 35 centimetri e il toy inferiore ai 28 centimetri. Ideale 25 o 26. I colori possono essere nero, bianco, grigio, marrone e albicocca. È un cane dal corpo armonico, dal caratteristico pelo riccio. Un collo solido porta fieramente alta la testa e le spalle devono essere superiori all'altezza del garrese almeno 10 centimetri. L'andatura del barbone è un'importante caratteristica di razza. Femminea. Leggera e saltellata simile a quella del cavallo arabo. È un cane molto vivace pieno di gioia di vivere. Alcuni lo ritengono uno dei più intelligenti e per questo veniva utilizzato nel circo. L'unico punto debole sono le orecchie che vanno sempre tenute pulite per non rischiare lotite. È un cane longevo con un'età media di 15 anni. Vive con la famiglia e va tenuto in casa. Molto attaccato al padrone per il farebbe di tutto. Non va lasciato solo o intristisce.